ben ritrovati un nuovo appuntamento dedicato alle interviste di calabria news 24 oggi incontriamo leonardo la barca ballerino ed allievo della scuola di danza di rende in punta di piedi di giusy massarini ciao leonardo salve grazie per l'invito grazie 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 allora raccontiamo una bella esperienza che ha vissuto insieme a giusy massarini a roma avete vinto appunto l'opportunità tramite il concorso di danza opes danza di fare una puntata a roma e cercare di trimentarmi con altre con altre scuole di danza e avete ottenuto dei risultati importanti e tu hai vinto proprio una solo così sì sì siamo andati con due pezzi un passo due una solo e portato questa solo dove ho vinto delle borse di studio e tra cui una borse di studio per un dal and the show che è organizzato l'acqua di cadiu lo ricordiamo il ballerino lo storico ballerino di amici che adesso chiaramente ha intrapreso un suo percorso abbiamo questa borse di studio mi ha fatto passare direttamente alle selezioni eliminatorie passaggio diretto e in più ho vinto una borse di studio per il camionaggio nazionale di latino americano e una borse di studio per la scuola di credi allora leonardo su che pezzo hai ballato che stile soprattutto contemporaneo ho fatto un pezzo una solo contemporaneo un pezzo tribale bello le coreografie di chi chi so chi l'ha coreografato è una mia coreografia pure è una tua ma tu da quanti anni balli ballo da tre anni e mezzo anni e mezzo quindi quanti anni hai 21 21 quindi vorrei intraprendere questa carriera speriamo bene allora quindi quando inizierà questo diciamo questa nuova esperienza si sarà allora si partiremo penso verso l'11 luglio ritorneremo il 18 perfetto allora in bocca al luco a te leonardo crepi e poi ci racconterai com'è andata certo grazie ancora grazie a te grazie a te grazie a leonardo noi ci vediamo più tardi